Il Motorola Milestone è il primo smartphone di Motorola basato sul sistema operativo Android. In America è uscito sotto il nome di Droid ed è stato un incredibile successo, probabilmente all'istopante delle aspettative della stessa Motorola che ha puntato molto su questo dispositivo, che è stato eletto da molte testate americane come il gadget del 2009. In Italia, abbiamo detto, arriva col nome di Milestone e le caratteristiche principali di credere particolare a questo smartphone sono innanzitutto il display in formato 16.9 da 3,7 pollici e con una risoluzione di 480 x 854 pixel, quindi decisamente superiore alla media dei smartphone attualmente sul mercato. Inoltre si tratta di uno smartphone che, nonostante lo spessore estremamente ridotto, integra una tastiera QWERTY. Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo la connessione USB, in particolare occorre un cavetto micro USB comunque fornito in dotazione, abbiamo i controlli del volume, il tasso di scatto fotografico, il jack per le cuffie e il tasso di accensione o di spegnimento dello schermo. Nonostante le dimensioni siano praticamente quelle di un iPhone, il design come possiamo vedere è un po' più squadrato e in effetti alla fine sembra quasi maneggiare qualcosa di un po' più grosso e leggermente più scomodo anche da tenere in tasca. Altre caratteristiche di questo smartphone sono la fotocamera da 5 megapixel con doppio flash LED, autofocus e zoom digitale. Inoltre permette di riprendere video fino a 720 x 480 pixel di risoluzione a una frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Si tratta di uno smartphone che non è stato customizzato come fa ad esempio HTC per cui non ha un'interfaccia particolarmente differente dal classico Android. Tra le altre applicazioni aggiunte da Motorola sul telefono abbiamo MotoNav che si tratta di una soluzione alternativa di navigazione completa e sul dispositivo troviamo già installate le mappe e una versione dimostrativa comunque in tempo limitato del navigatore. Si tratta di una soluzione comunque abbastanza interessante con le classiche funzioni che ci si aspetta da un navigatore satellitare non troppo diversa da nomi più famosi. Il formato 16.9 dello schermo offre il meglio durante la navigazione su internet. Proviamo ad aprire D-Day naturalmente. il caricamento della pagina in copertura 3G è piuttosto rapido come possiamo vedere. Lo schermo è di tipo touchscreen e il browser supporta il multitouch per cui possiamo pizzicare lo schermo in questo modo per zoomare oppure possiamo effettuare anche il doppio tocco per fare uno zoom automatico di una sezione che ci interessa. La fluidità come vediamo dello scrolling è piuttosto buona anche se in realtà possiamo notare un lieve lag rispetto all'azione del dito sullo schermo e come segue la pagina. Il Motorola Mindstone è già pronto per il futuro supporto di flash, funzionalità che attualmente non è ancora supportata, mentre in realtà è come invece completo supporto per YouTube. Vediamo infatti che quando compare un video di YouTube all'interno della pagina abbiamo già il video all'interno. Per quanto riguarda l'emissione del testo invece abbiamo o la tastiera touchscreen che però dato il formato di schermo piuttosto stretto vede i tasti comunque piuttosto ravvicinati tra di loro oppure appunto utilizzando la tastiera QWERTY in questo modo con la rotazione automatica del display. I tasti sono ben spaziati anche se in realtà il materiale con cui realizza la tastiera non prevede dei veri e propri tasti ma si tratta in realtà di una specie di pannellino un po' plasticoso e che al tatto non convince del tutto. In definitiva il Motorola Mindstone è sicuramente un buono smartphone, scatta foto piuttosto definite anche se comunque un po' rumorose, offre un browser piuttosto completo e che in futuro dovrebbe prevedere il supporto anche per i contenuti in flash, non ci convince appieno a livello estetico con questi angoli molto pronunciati, la tastiera è pratica ma comunque richiede un minimo di tempo di allenamento per ottenere i migliori risultati, mentre la sezione multimediale è certamente ancora migliorabile anche se si tratta di un aspetto più imputabile al sistema operativo che al terminale stesso.